Silvia Vaccari è la nuova Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Geostetrica. Presidente, qual è il primo obiettivo che intendete perseguire anche in continuità con il lavoro dello scorso direttivo? Allora, rispetto alla formazione stiamo lavorando con il Ministero dell'Università e Ricerca in un processo di rivisitazione di quello che è il percorso didattico e delle materie che sono inserite nella laurea triennale. Nei prossimi giorni formuleremo questo documento che comunque è già stato appoggiato e sostenuto dagli ordinari da tutto il mondo accademico dell'ostetricia perché è molto condivisibile e dove ci sarà la laurea triennale in ostetricia rivisitata da un punto di vista di contenuti, di crediti formativi universitari, di tirocinio e vi sarà questa proposta di una laurea magistrale post triennale, quindi la laurea magistrale a completamento di un percorso che vede principalmente un ruolo una formazione specifica sulle ostetriche ma basato molto sulla ricerca scientifica perché bisogna cominciare anche a produrre, raccogliere dati, dargli un'interpretazione e comunque allinearci anche al mondo europeo e non solo. Una ricerca sicuramente molto importante sulla dirigenza ed è un completamento di un percorso di studi che arricchirà sicuramente la professione sanitaria e ostetrica per affrontare comunque il mondo del lavoro ma soprattutto le richieste delle donne, delle famiglie e potremmo dare una risposta secondo me più efficace ma che anche proprio le nostre studentesse ci richiedono. Quali sono altri progetti in cantiere? Sicuramente un'impronta forte la dovremmo dare sull'educazione e le cure territoriali, i nuovi ruoli che possono avere i consultori familiari, tutto quello che è domicilio, case della salute, scuole, residenze sanitarie, la libera professione assolutamente e perché non le ostetriche di quartiere che sono soprattutto in un momento come questo di allontanamento delle persone anche nei rapporti sociali, sicuramente possono essere un filo conduttore veramente molto molto importante. Quindi prevenzione, cura, riabilitazione ma soprattutto palliazione, la cura del dolore e la cura del dolore legato alla solitudine, la prevenzione di tutti quei fenomeni che sono legati anche al postpartum ma soprattutto vedere l'ostetrica non più solo come professionista relegata al parto ma bensì una figura professionale sanitaria che faccia una promozione della funzione sociale perché è una professionista specificatamente dedicata alla salute della donna in tutti gli ambiti di prevenzione, cura come dicevo prima e assistenza.